Eros Ramazzotti e Michele Unsicher diventeranno presto nonni e stanno condividendo questa enorme gioia con i consuoceri. I genitori di Goffredo Cerza non fanno parte del mondo dello spettacolo, ma in questi giorni si sta parlando. Il motivo è l'intesa, la complicità mostrata da mamma Michele e mamma Francesca al concerto all'arena di Verona di Eros. Le due si sono divertite tantissimo insieme in platea, e i video di Instagram, hanno fatto il giro della rete. Non solo, c'è anche una foto di Eros e Michele con i consuoceri per il web. A pubblicarla è stata la mamma di Goffredo Cerza, e non è passata inosservata la sua bellezza, sottolineata da tutti. Ma non solo. Tutti e quattro i futuri nonni sono raggianti. Lo scatto è stato realizzato proprio al concerto di Eros, dove c'è stata, anche un'emozionante dedica ad Aurora, come si vede sia dall'abbigliamento sia dai baggi indossati da mamma e papà Cerza. La signora Francesca ne ha approfittato per scrivere un pensiero sulla famiglia allargata. E così ci siamo. Diventeremo nonni, ci sentiamo tutti molto fortunati per questo dono, e siamo tutti qui pronti a sostenervi ed iniziare questa nuova avventura. Auguri a tutti noi. La dedica è anche indirizzata ai futuri genitori Aurora e Goffredo, che avranno presto il loro primo figlio. I consuoceri sembrano andare molto d'accordo e avere un nipotino li unirà ancora di più. Michele e la mamma di Goffredo in particolare, sembrano avere una bella intesa. In comune hanno anche la bellezza. Saranno entrambe delle splendide nonne. Se la Unseeker, però è ben conosciuta, la mamma di Cerza, sta lasciando di sasso più di qualcuno per la sua bellezza. I suoceri di Aurora Ramazzotti non lavorano nel mondo dello spettacolo, ma nel settore medico. Il signor Fabio Cerza è primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale dei Castelli. La signora Francesca invece è manager e direttore generale del Poliambulatorio Specialistico di Roma. Con Eros e Michele c'è sempre stato un buon rapporto, si conoscono ormai da anni ovvero da quando Aurora e Goffredo si sono fidanzati. La loro storia d'amore è cominciata circa cinque anni fa, oggi convivono a Milano, e si preparano ad accogliere presto il primo figlio in famiglia. Con enorme gioia dei quattro nonni.